L'ostraggio non può bloccare il processo di legalizzazione di una società, quindi anche il nostro, dopo l'esempio che il giudice Levatino ci ha dato. Noi come Stato degli Iscrittori abbiamo voluto assolutamente essere presenti perché per noi la Stato degli Iscrittori è anche la strada della legalità e la legalità passa attraverso la cultura e la cultura passa attraverso la legalità. Per cui abbiamo avuto il nostro piccolo contributo perché questo segno tangibile rimanga e rimanga ai posteri perché possa ancora passare il messaggio del giudice Levatino, non quello che dici il resto ma quello che fai.